La partita di domani Allegri lo sa cosa deve fare per vincere ha vinto prima, ha vinto con Milan sta vincendo con Juventus quando ho conosciuto Allegri era più giovane in sua carriera con grande club adesso ha più esperienza ha fatto grandi cose poi Gattuso lo conosco come compagno spiegare a Gattuso come devi vincere non bisogna spiegare lui lo sa bene ha tanta fame di vincere sta facendo grandi cose cose con il club sono contento per lui perché mi piace come persona mi piaceva come giocare calciatore è un calciatore che ti stimola tanto che ti dà tanto ma non solo in campo anche fuori campo e uno se vado in guerra lui è una persona che lo porto e non c'è tanti come lui è sempre sempre in fianco tua se ti serve e spero che sarà una bella partita no no tutto quello che ho fatto in Europa ho fatto ho fatto la storia ho vinto 33 trofei ho giocato con più grandi club che c'è non in Europa ma in mondo più grandi giocatori sono molto contento di questa cosa fortunato poi ho conosciuto tante persone non in un club ma in qualche club no quello che ho fatto era destino di succedere lo porto con me lo porto qua da dove sono adesso per fare le mie cose